Potrebbe esserci una tappa anche nella bat delle selezioni che si stanno svolgendo in tutta Italia per la sesta edizione del premio Doninda, l'importante concorso dedicato ai talenti della composizione musicale istituito in memoria di Carlo Doninda. Per tanti anni collaboratore di Mogolle, storico autore di grandi successi della musica italiana. Da vecchio Scarpone, interpretato da Gino Latilla, la compagnia riproposto recentemente anche da Vasco Rossi, passando per le colline su un infiore e prigioniero del mondo per la voce di Battisti. Il premio è aperto a tutti i cantautori, interpreti e compositori che abbiano compiuto almeno 16 anni e prevede audizioni a Napoli, Catania, Cagliari, Roma e Milano tra i mesi di luglio e settembre, le semifinali nella capitale ad ottobre e il gran finale a Milano nel mese di novembre. A selezionare i ragazzi nelle varie tappe del premio, esperti di musica italiana tra autori, compositori e insegnanti di canto sotto la guida di Monica Doninda, nipote del celebre compositore e presidente dell'associazione La Compagnia di Doninda, che dal 2009 organizza il premio per dare un'opportunità a coloro che vogliono entrare nel mondo della musica ed in particolare in quello della composizione. E le nuove generazioni che partecipano appunto al premio Doninda potrebbero essere quelle, no, che magari fanno emergere un talento che possa arrivare a quello che ha fatto Doninda, si spera. L'opera vincitrice sarà pubblicata dalla Universal Music Publishing Ricordi, la cui direzione artistica convocherà il primo classificato per un'audizione. Anche per la sesta edizione del concorso sarà possibile partecipare alle selezioni in veste di interpreti per aspirare ad una borsa di studio comprensiva di un master con la vocal coach del programma TV X Factor, Paola Folli. Il premio Doninda potrebbe rivelarsi un'opportunità anche per i giovani artisti pugliesi se dovesse concretizzarsi la prospettiva sulla quale stanno lavorando gli organizzatori di avere una tappa nella provincia Bat tra le città di Andrea e Barletta. Sarà possibile rimanere aggiornati su questa possibilità seguendo il sito www.premiodonida.it o la pagina Facebook di Radioattivo TV.